Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro perché oltre 4 milioni di lavoratori e lavoratrici guadagnano 3, 4, 5 euro l'ora e questo non consente loro neppure di arrivare a fine mese e fare la spesa. Durante questa legislatura ci siamo battuti per introdurre il salario minimo legale, non ci siamo riusciti, ma noi siamo testardi, determinati. Le forze di centro-destra ci hanno ostacolato continuamente. Pensate che la Meloni ha definito il salario minimo legale come uno specchietto per le allodole. Come a dire che lei dall'alto del suo stipendio parlamentare, a pancia piena, di fronte a una tavola imbandita, dice all'affamato guarda non toccare nulla tanto è un'illusione ottica. Di contro calenda, assolutamente contrario, adesso in campagna elettorale ha scoperto il salario minimo. Letta invece parla di salario minimo, ma propone un mini intervento che riguarda una fetta limitata di lavoratori, pochi spiccioli. Chi propone il vero salario minimo siamo noi. stai da parte giusti.